Quindi una delle possibili soluzioni è quella di indagare nel mondo ancora troppo nascosto delle professioniste. Lì troviamo architette che non si accontentano di produrre architettura ma sentono l'esigenza di condividerla, di narrarla attraverso i social network e diventano così dei modelli sul campo a cui possiamo ispirarci. Oppure architette che possono abbandonare quel senso di unicità del progetto a favore di una più sostenibile ripetitibilità. Oppure architette che abbracciano il mondo tecnologico finalizzandolo alla ricerca di nuovi materiali da sostituire all'edilizia tradizionale. E infine architette che si rivolgono a una committenza fragile e decidono di farlo attraverso processi di progettazione partecipata.